Take another minute, tell me what you're thinking. Take another moment, tell me what you wish. How do you know? How do you know? How do you know what dreams will be coming through to the reality? Mercoledì 26 ottobre, siamo in diretta ore 21 con Passione Biancaazzurra, l'unico format interamente dedicato alla Virtus Francavilla che ormai da anni vi accompagna per commentare quella che è stata l'ultima partita, quella che sarà la prossima e soprattutto il momento dei Biancaazzurri. Lo potete fare anche dicendo la vostra, scrivendo i vostri messaggi Whatsapp al numero in sovraimpressione. Anche questa sera c'è tanto di cui parlare, vado subito a presentare i miei ospiti di serata a partire da Alessandro Minelli, difensore della Virtus Francavilla. Buonasera. Buonasera, buonasera. E buonasera anche ad Alessandro Zanzico che, come promesso, è tra i convocati anche questa sera. Grazie, grazie per la conferma, Dennis. Spero di ripagare la fiducia di questa società, abbiamo cominciato la grandissima. Ebbene sì. E in collegamento Skype abbiamo invece l'archivio storico vivente della Virtus Francavilla, Anto Lucio Saracino. Buonasera. Buonasera, Dennis. Buonasera ai tuoi ospiti e a tutti e a tutti i nostri seri. Ti sei fatto attendere, Anto Lucio. Di solito eri un ospite fisso, quest'anno abbiamo dovuto attendere un po' di giornate. Ebbè, i VIP si fanno attendere. Ebbè sì, i VIP si fanno attendere. Allora, io partirei con Alessandro Minelli. Questa sera sarà un po' difficile dialogare con due Alessandro, ma Alessandro, non possiamo non partire dal momento delicato che sta affrontando la Virtus Francavilla. E ti chiedo se ti sei fatto un'idea di questo momento. Beh, credo che questi momenti qua, che credo che ci siano in qualsiasi squadra di questa categoria, ovviamente poi sta a noi ad essere bravi a uscire come credo che usciremo alla grande. Comunque con la prestazione di domenica che faremo col Potenza, faremo capire a chi crede in noi, a tutti i tifosi che siamo ancora lì in pista per lottare, per fare grandi cose. Sì, tra l'altro contro l'Avellino, un pochino simile al match contro il Crotone, era una grande partita, è stata una grande partita dalla Virtus. Francavilla poi nel finale una beffa anche un pochino severa, per quelle che erano state anche le occasioni create dalla Virtus, penso al salvataggio sulla linea, sulla conclusione di Patierno. Sì, infatti con l'Avellino secondo me siamo partiti un po' più magari timoriti perché avevamo tante pressioni da far bene, magari quando abbiamo preso i due colpi che abbiamo preso secondo me siamo stati poi bravi ad essere squadra, ad ammollare un centimetro, infatti in quattro minuti abbiamo pareggiato la partita e potevamo anche vincerla. Poi purtroppo questo è il calcio, magari tu attacchi tutto il secondo tempo, prendi un tiro e perdi la partita. E tra l'altro sentendo anche le parole di Calabro, lui ha parlato di una squadra un pochino preoccupata, siete un pochino preoccupati da cosa? No, non preoccupata, più che altro magari come ti ho detto prima all'inizio partita comunque anche il presidente, anche comunque tutta la dirigenza puntava che noi facessimo una grande partita e magari queste pressioni anche da parte dei tifosi di far bene magari ci sono un po' intimoriti, però poi secondo me nel secondo tempo c'è stata una reazione da grande squadra che vuole puntare a fare bene. Sì, e poi Alessandro Zanzico, dopo andremo a sentire anche le dichiarazioni nel post-gara, Calabro ha detto anche che è mancato un po' di entusiasmo nei primi 20 minuti. Sì, fondamentalmente effettivamente è mancato questo entusiasmo perché nei primi 18 minuti abbiamo visto la Virtus andare in svantaggio di due gol, una ammazzata che avrebbe davvero spezzato le gambe a chiunque ma non appunto a una squadra solida e compatta come la Virtus. La reazione è stata veramente molto simile a quella di Torre del Greco perché anche in occasione della prima giornata di campionato, in occasione della partita che la Virtus ha poi pareggiato, in casa della Turris c'è stato questo doppio svantaggio così repentino, la Virtus si è trovata ad inseguire non una ma ben due volte, forse senza neanche rendersene conto, senza neanche capire perché, sta di fatto che poi la reazione è arrivata, poi la forte voglia di andare a vincere la partita è poi costato l'intero prezzo del biglietto per i biancazzurri, con Calabro che nelle dichiarazioni che andremo ad ascoltare da qui a breve ha anche sottolineato questa cosa, dicendo se ti rendi conto che non riesci a vincerla, a quel punto devi stare attento a non perderla. Sì, faccio un giro anche da te Anto Lucio, se ti sei fatto un'idea di questo momento che sta attraversando la Virtus Francavilla, un momento un pochino particolare, anche per quelle che erano un po' le aspettative sulla squadra, poi è chiaro non stiamo parlando di una squadra ultima in classifica o spacciata, è un momento che attraverseranno più o meno tutte le squadre, che idea ti sei fatto tu Anto Lucio? Sicuramente le premesse in inizio stagioni erano ben altre, la squadra era stata in qualche modo impostata, che ero fruita per non puntare a traguardi ben più presigiosi, è una classifica sicuramente migliore. Poi, ma anche detto che fino a quattro partite fa, la squadra comunque, se ricordo bene, è la quarta, è bastato un filotto di un punto in quattro partite per trovarsi in una posizione classifica decisamente no, decisamente negativa. Come diceva il mister, il squadra c'era il campo un po' preoccupato, nel senso che quando il periodo è negativo, e allora in qualche modo sul tempo un po' di timore di sbagliare, di prendere golo alla prima disattenzione, magari non si entra in campo con la massima tranquillità. Il periodo, la fase contingenziale che attraversa la squadra, in qualche modo influenza l'atteggiamento mentale con cui si approcciano le partite. Basterebbe, come un esempio, in questi casi, una vittoria importante, una prestazione convincente, accompagnata naturalmente dal risultato, per sbloccarsi e per cacciare questi piccoli, tra piccolette, fantasmi che potrebbero un po' bloccare mentalmente la squadra. Qualche segnale incoraggiante l'avevo già visto, ad esempio contro l'Andrea, anche contro il Latina, una gara pareggiata, ma sicuramente con un conteggio che stava troppo stretto alla Viu-Francavilla. Però rimane il fatto che, ad esempio, un po' come nella seconda parte della scorsa stagione, in trasferta si fa difficoltà a creare, a realizzare, a costruire gioco e azioni. Secondo me va in qualche modo fisso, come abbiamo fatto la scorsa stagione nel discorso, tra gare in casa e in trasferta. In trasferta i risultati in qualche modo sono frutto di un atteggiamento un po' troppo revistivo. Certo, a Corone ci poteva stare, per carità, puntare a un pareggio, ad esempio, però il piastello costruito nell'ultimo quattro ora purtroppo è crollato. Ma in generale si nota, un po' come nella parte finale della scorsa stagione, come se fosse quasi una continuazione. Un atteggiamento spesso diametralmente diverso, tra gare in casa e fuori casa. A me piacerebbe vedere comunque lo stesso spirito con cui si cerca sempre il gol, il gioco, magari anche concedendo qualcosa in casa, vederlo in trasferta. Perché comunque anche con l'Avellino c'è stata la reazione, si è sferata la vittoria, come ha detto Alessandro Minelli. Però purtroppo poi si è concesso tre reti, peraltro a difesa schierata. Tre reti schierate, una su una punizione da quasi 50 metri, che sono sicuramente reti subite, che è il difensore, che ha inquadrato Alessandro, può confermarcelo. Ai difensori al tecnico sicuramente non andrà molto giù, prendere tre reti a difesa schierata di cui uno su una punizione da 50 metri. C'è qualche elemento, qualche disattenzione che magari va curata, che magari però, come diceva prima, può essere frutto del timore di sbagliare e qui subito il popolo psicologico. Alessandro, non so se... Sì, diciamo che, come ho detto prima, secondo me capita di prendere... Cioè, credo che in tutte le squadre capita di prendere un gol a difesa schierata, ma non è quello il concetto. Cioè, secondo me, abbiamo proprio sbagliato l'atteggiamento all'inizio partita. Perché... E capita, capita. Perché comunque, come ho detto prima, le pressioni poi emotive di ogni calciatore, poi ognuno ha le proprie. Però credo che se tu davi magari un impatto subito all'inizio partita e facevi capire che volevi vincerla, secondo me poi la partita la portavi a casa, come l'hai dato nel secondo tempo. Però poi il gol, ragazzi, capita di prenderlo. Com'è che può sbagliare il difensore, può sbagliare l'attaccante che magari non fa gol, può sbagliare il portiere che fa una papera, però capita. Purtroppo poi è andata così. Sì, e c'è da dire che poi quest'anno la fortuna non sta nemmeno girando tantissimo per la Virtus. Ci sono un po' di messaggi. Parto da Mino che dice Buonasera, sono Mino. Vorrei ricordare ad Antoluccio di continuare a fare le sue considerazioni sparse perché ci mancano. Buonasera da tutti e forza Virtus sempre e comunque. Quindi Antoluccio, dobbiamo rintegrare anche le considerazioni sparse. Ha ragione il tifoso. Non sono in pochi da avermelo ricordato. In questa stagione per motivi diversi sono un po' impedito da realizzarle, però mi riprometto quanto prima di ricominciare a scriverle e a regalarle. Poi c'è un altro messaggio che ci manda Alessio e poi dopo andiamo a vedere le immagini di Francavilla Avellino. Un problema serio per la Virtus è lo stadio. Lo dico da tifoso che lo frequenta. Come si può pretendere di riempire uno stadio in cui manca tutto? Non è uno stadio per famiglie. Manca l'intrattenimento e i servizi per i più piccoli. Non c'è un vero punto ristoro. La tribuna centrale è scoperta per cui a volte ti viene il mal di testa dal troppo sole, a volte ti prendi la pioggia. Manca un led wall che indichi i tempi della partita e le info principali. Per non parlare della tribunetta coperta, io non credo che i tifosi in generale e gli amanti del calcio si meritino questo servizio e comunque ci sono disattenzioni che non c'entrano nulla con i permessi comunali. Insomma, questo è il messaggio un pochino di Alessio che ha voluto esprimere sui nostri canali ufficiali. Allora, io a questo punto direi che ci andiamo a vedere le immagini di Virtus Francaville-Lavellino e poi continuiamo con la nostra analisi. Lavellino espugna la nuova Redo Arena al termine di una gara dai due volti che ha visto i padroni di casa soccombere solo nel finale. Calabro conferma Caporale come quinto a tutta fascia e Cisco come interno di centrocampo, preferendo in difesa l'Andersolce a Minelli. In attacco si rivede Maiorino dal primo minuto. Gli ospiti si rendono subito pericolosi già nei primi due minuti, prima con Murano e poi con Trotta. Un pressing asfissiante è quello dei lupi che dà subito i primi frutti. La contesa viene infatti sbloccata il quattordicesimo con un gran tiro dalla distanza di Trotta che con il mancino trafigge Avella. Al diciottesimo i campani raddoppiano sui sviluppi di un calcio di punizione con l'inzuccata di Ianesh che salta più in alto di tutti. La gara sembra già scritta e indirizzata, ma alla mezz'ora Maiorino tira fuori dal cilindro una perla delle sue ed accorce le distanze direttamente su calcio di punizione. La Virtus prova a pareggiarla già al trentanovesimo con Mastropietro che di testa chiama Marcone ad un vero e proprio miracolo. L'avvio di ripresa bianca-azzurro è arrembante. Già dopo un minuto Patiarno si fa parare da Marcone, un gol già fatto e pochi minuti più tardi il bomber bitontino si fa perdonare. Trovando la rete del 2-2, la quinta del proprio campionato, reagisce Lavellino con un'insidiosa punizione di Dall'Oglio. Al 63esimo Patiarno sfiora la doppietta e la rimonta, ma Ianesh salva sulla linea, ma è all'84esimo che gli ospiti si riporteranno in vantaggio. Tutto nasce da un lancio fendente di Tito, sugli sviluppi del quale Dall'Oglio riesce ad insaccare alle spalle di Avella. A 2-9esimo il subentrato Perez prova a riportare la contesa sul pareggio, ma ad opporsi ci va involontariamente Cardoselli, che quasi salva sulla linea la botta del numero 10. Gli Irpini sfatano il tabù Franca Villa Fontana ed agganciano la Virtus in classifica a quota 11 punti. Alessandro, nei primi 20 minuti un 1-2 spietato dell'Avellino, poi è uscita fuori la Virtus. Guarda, sarò molto sincero, io dopo i primi 20 minuti, dopo i primi 18 minuti dal 2-0 in poi, ho pensato che quella partita potesse davvero avere risvolti tragici, perché appunto il pericolo nel caso in cui vai a giocare contro una grande squadra come l'Avellino e vai sotto di due gol è che poi tu non riesca a riprenderti, non riesca ad alzarti. Poi è arrivato quel lampo di Maiorino e la reazione di tutta la squadra, cosa che può sembrare scontata perché magari uno riesce ad accorciare le distanze di una partita molto combattuta, però non è affatto scontato, non era assolutamente dovuta una reazione così ruggente e straripante della Virtus, che se avesse trovato il 3-2 prima dell'Avellino non avrebbe sicuramente rubato niente a nessuno. Poi, appunto, come abbiamo detto, la grande voglia, la grande volontà di arrivare addirittura a rimontarla, a vincerla, ha poi scaturito il gol del 2-3. Però già la settimana scorsa, sempre qui in trasmissione, avevamo parlato di una parola chiave, che era fame. Quindi già immaginavo che l'Avellino potesse essere l'unica squadra un po' più affamata della Virtus per ovvie ragioni e quindi che potesse essere il peggior avversario da affrontare. L'ha dimostrato nei primi 18 minuti, ma nella restante parte della partita è stata la Virtus a dimostrare che appunto quando vuole e se vuole non è davvero seconda a nessuno. Sì, Antoluccio, fosse entrata poi quella conclusione lì di Patierno, non ho salvato la sua linea, forse adesso staremmo parlando d'altro. Sicuramente, sicuramente, purtroppo il calcio è fatto di episodi e non stanno girando affatto per il ragazzo giusto in casa Virtus Francavilla. Non è la prima volta, ma bisogna in qualche modo riuscire a essere più forti anche della cattiva sorte e prendere comunque gli spunti positivi che anche della gara contro Avellino ci sono stati appunto la reazione ovviamente convinta, rabbiosa, affamata come dicevate voi, ma anche con qualche modo dal punto di vista tecnico non fatturabile perché si è creato qualcosa dopo il doppio vantaggio, le occasioni non sono mancate. La perla di Magliorino è chiaramente uno dei tanti gesti tecnici meravigliosi che questo giocatore continua a regalarci, ma a vita di questo anche lo stesso ruolo di Paterno a frutto di uno scambio abbastanza veloce e elegante all'initerellare. Insomma, vanno presi segnali positivi da cui partire in questa gara anche dalla sconfitta bisogna trarre qualche elemento che possa in qualche modo essere incoraggiante per il prosievo perché la reazione si è vista contro, ricordiamolo, una signora squadra non girerà sempre male. Io sono convinto che appena arriverà la gara della svolta quella in cui le cose finalmente cambieranno poi, conseguentemente, l'entusiasmo ma anche la buona sorte daranno una mano e la Virtus, secondo me, riuscirà a riserire la ghina anche perché la classifica è cortissima non bisogna abbattersi per una gradatoria che in questo momento è abbastanza negativa. Ripeto, appena quattro partite fa si era a quarti in classifica quindi sono convinto che la situazione negativa verrà superata perché la squadra c'è, i giocatori ci sono sono elementi di talento, sono elementi che hanno comunque un carattere, una personalità marcata i giocatori che hanno un'esperienza abbastanza importante in categoria. Lo stesso è l'Alessandro, pur essendo giovane comunque è un elemento già esperto lui come tanti altri per cui io penso che si possa solo migliorare e risalire facendo anche frutto appunto di quanto di positivo è emerso pur nella negatività. Ecco, Alessandro, ci scrive Matteo cosa manca a questa Virtus Francavilla per essere immagine e somiglianza di Calabro così come il tecnico ha chiesto in conferenza? Ma credo che il mister ci stia parlando di come vuole la squadra credo che lui sia contento di come ci stiamo comportando ovvio, i risultati magari non sembrano così ma lui l'atteggiamento, la voglia che abbiamo di migliorare lui secondo me siamo il suo specchio cioè quello che vuole fare lui lo vogliamo trasmettere anche noi secondo noi è così, quindi credo che non manca assolutamente nulla. Tra l'altro sta facendo anche un po' da parafulmine questa cosa tante volte aiuta i calciatori per liberarsi un po' da pressioni Calabro dopo la partita ha detto se dovete trovare il responsabile sono io questo proprio a testimonianza di come vi sia vicino Calabro? Sì, lui soprattutto che prima di fare l'allenatore secondo me è un grande uomo come persona perché comunque a difendere 25 ragazzi danno l'anima così non è da tutti sicuramente però noi possiamo solo che ringraziarlo star lì vicino e fare quello che lui ci chiede di fare E allora adesso ci andiamo ad ascoltare proprio le parole di Antonio Calabro un piccolo estratto dalla conferenza stampa del post partita La partita dura 100 minuti più o meno io penso che a volte non bisogna fare sempre la partita perfetta per vincere forse in questo momento noi dobbiamo fare tutto in maniera perfetta i primi 20 minuti sicuramente non sono stati all'altezza come la restante parte della partita in quei 20 minuti abbiamo preso due gol è cosa che secondo me non deve accadere e però poi anche in quel frangente secondo me non abbiamo fatto malissimo per meritarci di prendere due gol poi dal ventesimo in poi ho visto completamente un'altra squadra ho visto completamente la mia squadra che con atteggiamento, con organizzazione, con voglia, con carattere andava in avanti e siccome non ho effettuato cambi in quei 20 minuti dal ventesimo in poi gli stessi giocatori che i primi 20 minuti hanno fatto una prestazione meno bella l'hanno fatta poi bellissima dal ventesimo in poi fino a fine partita perché secondo me i ragazzi ci hanno provato hanno anche riuscendoci a fare due gol all'avellino non sono gli ultimi arrivati con le sostituzioni abbiamo cercato di vincerla perché comunque i due attaccanti avevano speso tantissimo e Mastro Pietro aveva speso tantissimo aveva anche qualche altro cambio da fare per Crampi soprattutto dei difensori e poi il terzo gol è una cosa che ragazzi non ci possiamo permettere ma non dico per me per i ragazzi perché si sono spaccati le ossa per riagguantare un risultato per cercare di vincere la partita e loro, noi, il pubblico, tutti non si mergono poi dopo una prestazione del genere di uscire per l'ennesima volta senza punti così è successo anche prendendo un punto con il Latina in casa e quindi ripeto quello che ho detto prima ho visto un po' di preoccupazioni per i 20 minuti da parte dei ragazzi quindi mi preme dire se c'è qualcuno o qualcosa che o qualcuno che deve dare delle responsabilità a qualcuno che se la prendesse tranquillamente con me lasciasse tranquilli i ragazzi perché i ragazzi hanno bisogno di entrare in campo con, non dico spensieratezza ma con l'entusiasmo che poi ho visto dal ventesimo in poi altrimenti i partiti poi se ne vincono poche si entra in un turbiglion di negatività dove i ragazzi poi li accusano e poi se la portano dentro al campo io voglio vedere la mia squadra come dal ventesimo in poi non dall'inizio della partita fino al ventesimo perché noi siamo questi noi siamo questi quindi abbiamo, ripeto creato tanto abbiamo concesso poco mi sembra dal ventesimo in poi ci vediamo oggi usciamo sconfitti con un risultato di 3-2 e come spesso accade ci giriamo e vediamo che comunque stiamo prendendo gollo senza che gli altri facciano chissà che cosa capisco se anche la partita a Crotone per 75 minuti secondo me è molto molto bene poi chi non vede l'ha visto la partita dice che abbiamo visto hanno perso 3-0 chissà che pannonata hanno preso così non è stato forse la partita dal 75esimo al 90esimo è totalmente diversa questo non deve accadere questi questi tratti di partita forse in questo momento non ce li possiamo permettere e ne usciamo con le ossa rotte sapendo e prendendo io le responsabilità come ho sempre fatto lasciando tranquilli i ragazzi forse dobbiamolo e arriverà il momento che magari giocheremo meno bene creeremo meno occasioni da gol e magari si vincono le partite come tanti avversari stanno facendo con noi ecco alessandro che cosa ti piace del calcio di calabro tu di allenatori negli ultimi anni ne parlavamo anche fuori onda hai avuto Pecchia la Juventus hai avuto Auteri a Bari c'è qualcosa di calabro che ti piace? a me del mister a me mi aveva chiamato quando lui era ancora a Viterbo ho detto di andare là con lui poi ovviamente abbiamo fatto altre scelte però ti dico la verità a me come primo impatto io di un allenatore guardo subito la persona prima che a livello di tattica come a livello di persona credo che anche in questi momenti qua che magari non sto giocando oppure devo entrare ancora in forma così mi sta dando tanto mi sta aiutando mi sta dicendo che sono importante per lui che gli devo dare una mano e credo che io appunto la cosa che mi piace di più è la persona di lui poi a livello tattico ognuno può avere le sue idee noi giusto dobbiamo metterle in pratica però io guardo tanto la persona e comunque ha dimostrato di darti fiducia anche nelle ultime gare tra l'altro ti sei comportato molto bene sì io con Latina il mister mi ha dato fiducia e spero di averla ripagata poi con il crotone come ha detto il mister se uno vuole vedere il risultato senza la partita 3 a 0 dice che questi hanno giocato male ma come dice lui abbiamo fatto 75 minuti alla morte poi abbiamo preso un gol su pallina attiva e poi lì secondo me abbiamo un po' mollato dove non dovevamo e la partita è andata così piccola curiosità che non c'entra niente perché il numero 96? ma perché diciamo il mio numero era il 23 mi era già occupato allora ho fatto scegliere la mia famiglia e poi il 9 è il numero importante e il 6 diciamo che era il mio primo numero a rende e ho fatto insieme e ce l'hai tatuato per questo qui il numero 6? sì esatto e ho anche questo sì Antolugio tra l'altro ne parlavamo anche allo stadio l'impatto che ha avuto Minelli con la Virtus è stato importante no? sì a me è un giocatore che piace da anni lo seguo da diverse stagioni da quando a rende giovanissimo faceva il centrale di una difesa a 3 se ricordo bene giusto come ho detto anche contro la Virtus Francavilla ricordo ad esempio una vittoria per 3-1 a rende a rende ovviamente fece una grandissima impressione e mi stupio per essere così giovane a giocare con la personalità del veterano Antolugio ha fatto un gol contro la Virtus l'altezza è sempre stata importante e devo dire che già in quella gara in quella stagione giovanissima era di 2 penne se ricordo bene mi resi conto di un difensore che aveva avuto un futuro importante poi il poltico di Gattiera lo ha dimostrato lo sta dimostrando e quando è stato preso in chiusura di mercato sono stato sinceramente contento di averlo Francavilla perché credo che sia un difensore per la categoria molto importante addirittura anche per la categoria superiore chiaramente ha colleghi molto forti Francavilla in realtà meglio di me dovrà sgomitare ma sono convinto che il suo spazio come già nell'ultima settimana sta venendo se lo ritaglierà non va ad esempio escluso come in qualche caso si è viso in qualche frangente magari anche di provare una difesa a 4 per dare spazio anche ad Alessandro ad esempio perché secondo me potrebbe essere una soluzione da utilizzare in alcune circostanze in alcune gare comunque rimane il fatto che pur avendo concorrenti compagni così forti di reparto mi piacerebbe vederlo sempre più spesso in campo perché ripeto a me è un difensore che piace tanto a fine dei piedi di Renne quindi per me è un arrivo e una presenza importante nella rosa di Francavilla tra l'altro Minelli dice che ha segnato contro la Virtus tra le altre cose vedendo anche le statistiche tu hai affrontato quattro volte la Virtus e hai vinto tutte quattro volte quindi il giorno che si è diventato ufficialmente della Virtus si è sbocciato in città per sì se no se ricordo bene la gara di ritorno a Brindis sul calcio di rigore brava giusto sul calcio di rigore giusto quindi tra l'altro non è l'archivio storico particolare far calciare un rigore decisivo un ragazzo di 18 anni un difensore peraltro 18enne evidentemente voleva dire che già all'epoca modesta l'allenatore del Renne di quell'anno aveva grandissima fiducia nei suoi mezzi nella sua personalità perché tra l'altro su quel terreno abbastanza disastrato come ci ritorniamo far calciare un rigore a un 18enne alla prima esperienza tra i grandi tra i pro era già sintomo ovviamente di fiducia da parte dell'allenatore ma sicuramente dalla parte del ragazzo di grandissima personalità e carisma è un pochino inusuale che un centrale batta un rigore come mai? ma perché vedeva che in allenamento avevo fiducia da provare 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 alla fine ho detto vai se te la senti prova a batterla io non ci ho pensato due volte quindi ti chiedo se con il potenza non fossi uscito saresti stato uno dei cinque rigoristi sì anche durante la partita in teoria è un rigorista hai visto come come si scoprono le cose qualche giorno dopo Patierno è avvisato Patierno Magliorino Murillo insomma no poi secondo me il rigore diciamo che è un po' parte dell'attaccante perché comunque quello che vede di più la porta è molto più quello un po' più ghiaccio però se uno poi se la sente poi secondo me anche poi a livello cosa hai dentro se te la senti tirare è perché non devi tirare nel calcio moderno sono tanti difensori rigoristi Sergio Ramos Bonucci Materazzi Materazzi sì Antoruccio noi dopo ti vedo fare segni dallo schermo Antoruccio siccome a breve andremo in pubblicità e ci saluteremo perché mai sia insomma farci una puntata intera insieme no metà puntata ti volevo chiedere una cosetta su Calabro tu che lo conosci bene ma in questi momenti un pochino così no un pochino delicati si esalta di più si galvanizza di più Calabro sì sicuramente sicuramente si esalta nell'avversità nella difficoltà nella voglia di reagire d'altronde la stessa dichiarazione in cui vuol fare la pala fulmine no attaccata in mezzo e che ragazzi lo dimostrano sicuramente lui è un combattente lo era da calciatore lo è da allenatore è un grintoso da cui sono convinto che in questi in queste circostanze non solo si esalta ma dà il meglio e saprà sicuramente come venirne fuori anche perché ripeto qualche segnale incoraggiante comunque nelle prestazioni c'è manca il risultato ma arriveranno breve mi è piaciuto quando all'inizio di trasmissione Alessandro Vinelli ha detto daremo prova già con la prestazione che offremo a potenza lui è convinto gli faccio questa convinzione che a potenza si farà bene per cui sia Calabro che i ragazzi sapranno come venirne fuori vedremo sicuramente Stancavilla più positivo propositivo e vincente grazie Anto Lucio per essere stato con noi ci rivediamo ti convochiamo per i prossimi mercoledì di Passione Bianca Azzurra ok grazie a voi e buona continuazione grazie grazie ad Anto Lucio Saracino allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità dopodiché torneremo continueremo e andremo a scavare anche qualche dettaglio della carriera di Alessandro Minelli avremo anche un collega da potenza che ci presenterà la sfida ma non solo ci sarà tanto ancora da parlare a tra poco e allora rientriamo in studio per la seconda parte di Passione Bianca Azzurra con noi Alessandro Minelli questa sera difensore della Virtus Francavilla vado dall'altro Alessandro Zanzico a chiedere le parole di Magrini nel post gara come ti è sembrato il presidente devo dire molto vicino alla squadra sì molto fiducioso devo dire lui ha apprezzato tanto la prestazione ha commentato la partita con grandissimo criterio e diciamo che l'abbiamo conosciuto magari nei periodi in cui le cose realmente non andavano bene quando c'è da tirare le orecchie un presidente che le tira senza farsi assolutamente alcun tipo di problema quando c'è da accettare le critiche quelle giuste quelle pulite quelle che arrivano nei momenti di serie difficoltà lo fa però ho visto che nella partita contro Lavellino ha saputo analizzare alla perfezione quella che è stata realmente la gara cioè Lavellino super arrembante per 20 minuti e poi una gran bella Virtus per il resto della gara quindi diciamo che è riuscito a mantenere con grande calma il tutto io l'ho visto anche durante la partita un po' provavo a sbirciare provavo ad adocchiare quelle che erano le sue sensazioni è normale che un presidente di quell'esperienza capisca il momento e sa che questa squadra pian piano ne potrà uscire e allora accendiamo ad ascoltare proprio le parole del presidente Magrido dopo la sfida con Lavellino buonasera presidente abbiamo visto una partita vibrante da parte della Virtus che dopo essere andata sotto di due gol poi ha saputo reagire con compattezza reagito da grande squadra poi peccato che nel finale sia arrivato il gol dell'avellino del 3 a 2 un risultato che forse non rispecchia la perfezione quella partita che abbiamo visto sicuramente no io credo che comunque i ragazzi hanno fatto una grande partita chiaramente andare sotto di due gol con una squadra come Lavellino non era facile assolutamente riprenderla hanno fatto una grande reazione ha avuto una grande reazione l'abbiamo pareggiata potevamo vincerla abbiamo avuto credo 4-5 occasioni dopo il 2 a 2 per poterla vincerla e invece insomma poi abbiamo subito il 3 a 2 che chiaramente insomma ci ha un po' spezzato le gambe insomma sul finale quindi peccato ecco ci sta girando un po' tutto male sta andando tutto storto però oggi comunque c'è stata una grande prestazione sicuramente il risultato non rispecchia quello che abbiamo visto in campo se nelle scorse settimane qualcuno aveva anche potuto rimproverare un po' di assenza di atteggiamento oggi in merito non si può dire davvero nulla ma direi di no ecco assolutamente c'è stato comunque un grande carattere da parte della squadra perché ripeto essere sotto di due gol contro una grande squadra come Ravellino non è assolutamente facile riprenderla e puntare anche a vincere forse anche la troppa foga di vincere la partita ci ha sbilanciato un po' e quindi poi abbiamo subito il gol del 3 a 2 non è mancato assolutamente l'atteggiamento così come non sono mancate le tante occasioni da rete che abbiamo creato credo forse una delle partite in cui abbiamo creato di più peccato per il risultato ecco perché poi alla fine è quello che conta purtroppo il risultato e quindi questo ci lascia sicuramente l'ammarezza Alessandro Presidente dicevamo che si è molto mostrato vicino alla squadra non so se è venuto poi negli spogliatoi sì ma il Presidente non sono in queste partite ma in tutte le partite comunque ci fa capire quanto è importante per lui comunque che noi facciamo bene che noi dimostriamo e credo che un Presidente così per ora nella mia carriera non l'ho mai incontrato comunque ogni giorno magari viene al campo ci saluta prima della partita dentro lo spogliatoio per far capire che c'è comunque da quella cosa in più da dire dobbiamo farla anche per lui che sta facendo tutti i sacrifici per noi e quindi noi dobbiamo dimostrare anche lui che noi ci teniamo veramente e colgo l'occasione per chiederti e mi riadaccio anche a qualche messaggio che è arrivato sul come ti sei ambientato a Francavilla e che tipo di realtà hai trovato a Francavilla no io prima di venire qua ho chiesto a Mimmo Franco che lui era qua e mi ha detto assolutamente di venire che comunque l'ambiente era bello una famiglia infatti appena sono sceso cioè neanche una settimana già coi compagni erano tutti quasi siccome c'essimo già da anni però è stato bello anche col mister direttore tutti comunque è stata una grande accoglienza e conoscevi già qualcuno della come no solo come nome oppure come avversario ma personalmente nessuno tra l'altro tu sei uno dei veterani di questo girone l'hai disputato tante volte ti chiedo se questo forse è il campionato più difficile oppure beh io ho affrontato anche il girone A quando era la Juve quando era la Provercelli credo che c'è tanta differenza da questo all'altro girone perché magari negli altri gironi c'è più qualità ma qualità non così tanta differenza però in questo girone qua c'è altro che ti porta a vincere le partite c'è un'altra parte i tifosi che rispetto agli altri gironi non ci sono però anche la spinta in più che magari ti dà la squadra ti dà la società secondo me è un fatto veramente importante il presidente Magri viene sempre nello spogliatoio oppure Donatiello si si lui ogni giorno è lì che cioè fa parte di noi ti dico solo visto che tu sei uno dei nuovi che in periodo di covid quando diciamo gli stati erano vuoti gli stati non si giocava lui era comunque sempre là ogni tanto ci sentivamo e diceva quanto mi manca lo stadio quanto mi manca la squadra insomma Donatiello alla residenza allo stadio quindi poteva stare lì in tempi di covid guarda quando parli di qualità forse è più un discorso legato alla tecnica giusto perché se nei gironi A e B emerge quella nel girone C c'è tanto altro si io intendo appunto te ma perché magari e magari nelle altre giorni è più tempo di far la giocata perché qua è appena c'è la palla ti saltano addosso cioè secondo me questa è la grande differenza tra gli altri gironi perché magari qua c'è molto più attaccamento alla maglia più fame più di dimostrare alla piazza e secondo me questo qua ti dà anche una cosa te stesso dentro che dice dobbiamo vincere se sei arrivato in prestito dalla Juve a cosa ambisce Minelli sogni di difendere la porta della Juve eh certo quella la mia squadra d'appartenenza credo di dimostrare prima loro di che giocatore hanno speso i soldi e poi dimostrare a me stesso la mia famiglia che mi sta sempre vicino alle persone che contano su di me poi io do sempre il massimo poi ognuno poi arriva dove arriva anche perché un sogno non troppo utopico secondo me però vedendo ieri insomma allora ci andiamo a sentire adesso le parole di Vulpis vicepresidente della Lega Pro insomma è venuto un po' come anche a far visita al presidente Magri l'abbiamo visto nelle scorse settimane anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è schierato al fianco del presidente Magri dopo le dichiarazioni rilasciate è proprio in esclusiva la nostra trasmissione ci sentiamo Marcel Vulpis vicepresidente Vulpis che partita è stata le chiedo se si è divertito e le chiedo innanzitutto anche che cosa ha visto sicuramente è una partita molto intensa giocata diciamo in modo molto vibrante da parte di entrambe nel primo tempo l'Avellino nei primi 20 minuti è stato più incisivo però poi dopo è cresciuto molto il Franca Villa soprattutto nel secondo tempo a parte il gol subito credo che ai punti il Franca Villa abbia fatto molto molto di più quindi parliamo di una sconfitta che sta un po' stretta la Virtus forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio sicuramente sì sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e Alessandro sono arrivati anche complimenti da parte del vicepresidente della Lega Pro che ha parlato anche in conferenza stampa poi di una delle partite più belle dell'intera Lega Pro sì lui ha detto testoli parole per intensità la partita che mi ha divertito di più è come biasimarlo perché è stata una partita davvero assai intensa oltre alle cinque reti totali che hanno contornato il match è stata una gara con tantissime palle gol tantissime occasioni tanti duelli tante partite nella partita a me personalmente parlando ha divertito un sacco così come anche a lui effettivamente l'ha detto più e più volte nel post partita anche all'intervallo quando ha fatto con noi un collegamento in diretta in trasmissione quindi sicuramente si è divertito allora ci andiamo a vedere adesso invece un servizio dedicato un po' ai numeri offensivi della Virtus Francavilla e poi continuiamo con qualche domanda ad Alessandro Minelli a breve avremo anche Federico Pellegrino collega di Potenza Rosso-Blu tra una decina di minuti circa Magliorino Patierno e Murillo oppure Patierno Murillo e Magliorino cambia l'ordine non la sostanza la Virtus Francavilla si affida sempre solo i tre tenori offensivi per pungere le difese avversarie dei nove gol stagionali messi a segno cinque sono del numero nove gli altri quattro divisi a metà tra i due calciatori con più qualità dell'intera rosa e quando uno esce dal cilindro gol come quello realizzato da Magliorino sabato pomeriggio capisci perché li chiamano fantasisti determinati calciatori ma torniamo al punto nove gol segnati dalla Virtus in campionato ma da dividere in tre calciatori ora più che mai infatti alla formazione di Calabro manca l'apporto dei centrocampisti e difensori che in passato non è mai mancato ed è anche su questo che sta lavorando l'allenatore Biancazzurro per offrire più soluzioni negli ultimi 30 metri dalle incursioni di Mastropietro ai tagli di Pierno e Magaricisco passando per i colpi di testa di Miceli Idda e Caporale sui calci piazzati cose viste nello scorso anno ad eccezione dell'esterno arrivato in estate perché un periodo di appannamento per le punte è da mettere in preventivo e sarà lì che la Virtus dovrà scegliere nuove vie per arrivare alla meta e concretizzare gran parte della marea di occasioni che costruisce nell'arco dei 90 minuti e domenica alle 17.30 c'è il Potenza che ha esonerato Siviglia e che può rappresentare il punto di svolta di questo delicato momento dei Biancazzurri E Alessandro questi colpi di Maiorino sono un po' da fuori classe no? Che tra lui e Murillo fanno un po' a gara a chi deve accendere di più le luci negli ultimi 30 metri È vero perché anche in allenamento Pasquale ha un tiro che veramente non si spiega perché non faccia così tanti gol in partita finalmente si è sbloccato spero che sia uno dei tanti Tra l'altro stanno mancando un pochino stanno mancando un pochino di gol da parte dei centrocampisti e difensori abbiamo sentito in questo servizio hanno segnato solo tre giocatori su otto scusami in otto giornate hanno segnato solo tre giocatori serve qualcosina in più serve un pochino di apporto in più dai centrocampisti e difensori Sì questo credo di sì però diciamo che il ruolo per fare gol è l'attaccante secondo me se fa tutti i gol l'attaccante siamo tutti felici però ci credo una mano possiamo darla anche noi magari quando andiamo sui calci d'angolo e i centrocampisti magari a tirare da fuori in qualche inserimento questo è sicuro però diciamo che il ruolo principale per fare gol è l'attaccante Alessandro Sì non mi sento di contraddirlo onestamente guardando il servizio ho fatto mezzo locale su un nome in particolare mi sono subito rifatto a quello che hai detto tu cioè su Cisco perché Cisco è abituato a giocare su al nord ed è uno che ha tante giocate anche molto interessanti ha tanti colpi di spicco forse è per questo che per il momento ancora non sta venendo fuori il Cisco che realmente dovremmo vedere proprio perché sta riscontrando la difficoltà e le difficoltà di cui parlavi tu poco fa non so se sei d'accordo Sì però credo che Andrea diciamo che è la prima volta che esegue questo ruolo qua perché lui diciamo è il suo ruolo praticamente è fare l'esterno in attacco e diciamo che adesso il mister sta chiedendo una cosa che magari in tutti gli altri suoi anni non ha fatto quindi diciamo che a suo favore posso dire che magari sia un momento di capire un po' come è il ruolo però sicuramente ci può dare una grande mano perché lui le sue qualità credo che lo vedono tutti che c'è l'uno contro uno che nessuno ha in questa squadra qua però secondo me magari basta quel gol per poi sbloccarlo come tutti gli altri infatti D'Avellino è entrato benissimo davvero benissimo sì complimenti ad Alessandro per quello che ha dimostrato in campo e poi un altro messaggio per far condicio leggiamo tutto Franca Villa Potenza solo per la maglia la maglia onorata solo se sudata meno chiacchiere più impegno ti prendi pure questi messaggi giusto ti posi poi dicono la loro opinione a parte gli schesti adesso ci andiamo a vedere le immagini di Taranto Potenza Potenza prossimo avversario del Franca Villa e breve ci colleghiamo anche con Federico Pellegrino di Potenza Rosso-Blu Vince il Taranto 2-0 perché la squadra più concreta ed organizzata il Potenza è sterile quel poco che fa si infrange sui guantoni di Vannucchi Capuano a sorpresa a schiera dall'inizio D-A-B ritrova Labriola e lancia per la prima volta dall'inizio Rajcevic Siviglia 4-3-3 davanti ci sono Emmausso Caturano e Di Grazia i padroni di casa passano subito in vantaggio dopo soli due minuti con il difensore centrale brasiliano Antonini testata più in alto di tutti in elevazione su assist di Ferrara dopo 8 minuti c'è un'uscita di Vannucchi sui piedi di Caturano quale si vede annullato un gol per fuorigioco al ventesimo ancora lui dopo 33 minuti il tiro a giro manda il pallone di poco alto il Taranto si rivede al quarantesimo con una girata in corsa di Rajcevic la parata del portiere Gasparini un minuto dopo c'è un grande intervento dell'estremo difensore ionico Vannucchi sulla girata ravvicinata di Caturano con gli ionici nella ripresa dopo 6 minuti il gol che manda in archivio la gara è di Antonio Romano gran tiro da fuori aria pallone che sorprende Gasparini al decimo del pinto da buona posizione spedisce in diagonale alto ventitresimo rasoterra di Labriola pallone di un soffio fuori quarantesimo c'è un velenoso tiro cross di Volpe Vannucchi alza sulla traversa e per finire al quarantaquattresimo ancora Vannucchi sugli scudi questa volta sulla botta da due metri di Del Sole il Taranto conquista il suo quarto successo interno consecutivo il Potenza dopo il successo casalingo con la Turris torna a perdere in trasferta c'è da dire che se Taranto e Francavilla hanno una cosa in comune sono i portieri che sono davvero stanno facendo veramente bene 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 da Vella a Vannucchi buonasera Federico Pellegrino di Potenza Rosso Blu buonasera buonasera a voi e grazie per l'invito grazie grazie a te per averci aspettato siamo andati un pochino oltre il tempo che abbiamo concordato Federico ti chiedo che potenza dobbiamo aspettarci è vero che la Virtus Francavilla l'ha già affrontata l'abbiamo vista bella pimpante qui alla Nuova Redo Arena però ho l'impressione che domenica sarà una partita un pochino anzi totalmente forse diversa beh assolutamente sì è chiaro che il cambio d'allenatore genera sempre una reazione positiva o negativa che sia l'augurio per il Potenza è che possa sicuramente segnare una svolta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi risultati diciamo non raggiunti dalla formazione di Siviglia che ha vinto appena una partita c'è il ritorno di Giuseppe Raffaele e sarà curioso capire proprio come e in che modo lui riuscirà a trasformare questa squadra si tratta di un ritorno dal 2018 al 2020 è stato già sulla panchina della Potenza ma con una squadra diversa adesso allenerà una squadra più giovane una squadra tutta nuova rispetto allo scorso anno e quindi sarà interessante capire non solo dal punto di vista tattico come riuscirà a cambiare le cose e ricordo anche che era un gran Potenza quello di Giuseppe Raffaele vi siete chiesti come mai la stagione non sia decollata anche perché prendendo i singoli il Potenza ha una bella rosa poi è chiaro che si va in campo e non si vince sulla carta però il Potenza è una bella squadra è una bella squadra sì ma non si vince con i nomi e con i cognomi si vince chiaramente con tutta una serie di componenti che in questo momento nel Potenza non hanno funzionato allo stesso modo comunque un allenatore giovane al primo anno dei professionisti ha pagato un po' lo scotto del noviziato e poi c'è da dire anche che molti calciatori over in questo momento non stanno facendo la differenza e poi quando si parla di giovani a Francavilla Fontana lo sapete bene ci vuole molta pazienza pazienza che la società del Potenza non ha avuto o meglio ha avuto fino ad ora ma è chiaro che poi a tutto c'è un limite quindi si è puntato sull'usato sicuro e quindi su Giuseppe Raffaele per cercare di raddrizzare una stagione non vorrei dire nata storta ma fino a questo momento con più bassi che alti e che tipo di novità dobbiamo attenderci anche a livello di formazione dico perché Siviglia faceva un tipo di calcio che credo sia un pochino all'opposto di quello che conoscendo Raffaele proporrà Raffaele Guarda io ieri sono andato al campo proprio per cercare di capire qualche piccolo input che potrà dare Raffaele io il Potenza secondo quello che ho visto l'ho schierato così sempre 4-3-3 quindi chiaramente non c'è una modifica iniziale nel modulo quanto magari forse nell'interpretazione con Gasparini tra i pali Gianfi Armini legittimo e Rillo in difesa chiaramente domani si sa anche l'esito del ricorso della squalifica di Matino che potrebbe rientrare contro la Virtus ha avuto 3 giornate di squalifica è stato fatto ricorso l'esito lo conosceremo domani a centro campo dovrebbero agire Steffè Larivi e Sandri in attacco del Sole Caturano e del Mausso che Raffaele ha allenato già nella sua precedente avventura di Catania due stagioni fa Alessandro Zanzi sì vorrei chiedere al collega qual è secondo lui il giocatore che la Virtus dovrebbe più temere fra le fila del Potenza bella domanda mi auguro Caturano perché chiaramente in questo momento è l'uomo che deve sobbarcarsi sulle spalle il peso dell'attacco potentino ed è chiamato ad una risposta immediata già contro la Virtus Francavilla non ha avuto molta continuità dal punto di vista dei gol segnati in questo avvio di stagione quindi io mi auguro che sia lui l'uomo più impegnato e che di conseguenza possa mettere più in apprezzione la difesa della Virtus Francavilla Federico come si faceva una volta con le carte Yu-Gi-Oh io visto che abbiamo qui Schiero su Caturano Minelli che magari sarà chiamato a ostacolare l'attaccante del Potenza grazie a parte gli scherzi per essere stato con noi grazie a voi grazie per l'invito e buon proseguimento di trasmissione grazie grazie a Federico Pellegrino di Potenza Rosso Blu tra le altre cose tanti colleghi mi avevano detto di salutarlo non so se c'è ancora Federico comunque se ci sente o se ci vede gli porto i saluti anche di Giuseppe Andriani e di tanti altri colleghi siamo più o meno arrivati in chiusura ti chiedo Alessandro una breve battuta su questa partita che partita vi aspettate contro una squadra che per l'ennesima volta ha cambiato allenatore contro di voi io credo che come ho detto in partenza questa partita per noi è fondamentale ci dà a noi importa poco le squadre avversarie se cambia allenatore noi ne dobbiamo guardare noi stessi entrare subito cattivi in campo per far capire che anche se cambia allenatore cambia noi c'è niente noi dobbiamo vincere basta tra l'altro i problemi poi sono nostri che dobbiamo ricostruire le informazioni ogni volta il problema è quello però ok che d'accordo non vi interessa perché pensate a voi e tutto quanto ma diciamo sotto un punto di vista prettamente legato a quello che è l'approccio alla partita per voi è meglio affrontare una squadra con la consapevolezza che ha in panchina un allenatore che in quella partita si sta giocando la panchina o una squadra che ha un allenatore nuovo appena arrivato beh diciamo che per come me la metti così io ti dico che è più difficile affrontare una squadra con un allenatore nuovo perché comunque tutti i giocatori vogliono dimostrare all'allenatore che magari devono puntare su di lui non su di un altro perché magari l'allenatore vecchio si conosce già e magari uno vuole farlo fuori invece con l'allenatore nuovo tutti danno qualcosa in più che magari non è niente ma quella parte lì magari danno qualcosa in più per dimostrare di poter giocare Alessandro bravo in campo e anche simpatico grazie per essere stato con noi esame superato ti ho visto un sospiro grazie per essere stato con noi grazie Alessandro grazie anche a te grazie a te mi fai sapere oppure ci diamo appuntamento già per mercoledì ci diamo appuntamento già per mercoledì grazie contiamo di avere anche magari un turlucio il prossimo mercoledì siamo arrivati in chiusura con Passione Bianca Azzurra domenica Potenza Francavilla alle ore 17.30 partita molto molto bella che commenteremo mercoledì e ci proietteremo anche sul prossimo impegno della Virtus Francavilla grazie per essere stati con noi buon proseguimento sui canali di Antena Sud grazie a tutti i chiudeti grazie a tutti i chiudeti